Ciao a tutti, sono Cristiano Pena, architetto di Intervi. Siamo in casa della nostra cliente, la signora Patrizia, che ha appena acquistato questa cucina e l'abbiamo consegnata. La cucina nel particolare è stata ideata con questa penisola, alta contenitiva, piano ingressa, con l'inserimento di tutti gli elettrodomestici. Facciamo qualche domanda alla nostra cliente, come conosciuti delle case? In realtà su internet, girando sui siti di mobili, ho trovato questo sito, guardando mi dava affidabilità, ho letto delle buone recensioni e quindi ho preso un appuntamento con l'architetto Cristiano. Ci siamo incontrati in studio, abbiamo fatto il nostro preventivo, il nostro progetto, secondo le richieste e le esigenze. Cosa ti è piaciuto e che cosa ti ha spinto all'acquisto della cucina? Il fatto che ha seguito fin dal primo momento le mie idee, cioè ha realizzato quello che avevo io in mente, in particolare la base di sagmata. Abbiamo fatto la produzione della cucina, i falegnami l'hanno consegnata e montata. Come trasporto e montaggio hai notato qualcosa in particolare? No, 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 anche lì sono rimasta molto soddisfatta, in quanto comunque sono sempre delle persone molto professionali, affidabili, hanno curato ogni dettaglio e io sono stata presente e mi hanno chiesto anche se avevo particolare esigenza. Quindi certi montaggi abbiamo deciso insieme, come procede? Bene. Ultima domanda, consiglieresti di dare casa ad amici e parenti? Certo. Certo, bene. Ringraziamo la signora Patrizia e al prossimo video. Controllate sempre il nostro sito di arecasa.com e di nostri canali social Facebook e Google Plus. Ciao. Ciao, buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Ciao.